www.redigio.it e la storia continua il primo passo della vita e sopra le 1.050 illegittimi 543 maschi e 511 femmine e volete sapere quanti erano nel 1981 i disgraziati componenti della famiglia di cui l'ospizio provinciale di Milano ha dovuto profedere? 8.439 quanti dolori e c'è da inorridire e siamo sull'aumentare come si provveda poi a questi infelici è bello tacere nessuno ne ha colpa poiché le istituzioni del betrotofrio è organizzata retta da norme non facilmente mutabili e da consuetudini che tengono veci di leggi e poi la burocrazia non è la provvidenza gli esposti vengono quasi tutti affidati allevatori abitanti in campagna si conta un po' sulla moralità e sul buon cuore dei campagnoli e anche per vero dire che molti di questi hanno meno pregiudizi dei cittadini nel bambino quelli che non vedono il bastardo vedono il disgraziato e se lo tengono caro è una specie di buon augurio per la famiglia che lo ricetta e lo nutre il compenso che paga l'ospizio beh non è sempre allettamento sufficiente per indurre una famiglia ad assumersi la cura di allevare un figliuolo che sul fiore dell'età può essere richiesto e portato via da chi l'ha messo al mondo vi sono pure dei bambini che per la loro bellezza traggono gli allevatori ma ve ne sono di quelli che sono malagraziati o brutti o infermici o con le membra contorte o rattrapite e poveretti e non sono voluti da nessuno fino a pochi anni or sono per una vecchia consuetudine si provvedeva al loro collocamento in questo deplorevole modo quando la direzione dell'ospizio dà sicure informazioni era fatta certa che in un determinato circondario di campagna vi erano parecchie famiglie che avrebbero assunto l'allevamento di alcuni trovatelli ne caricava qualche dozzina sopra un carretto e li inviava al comune indicato all'arrivo dell'infelice convoglio si dava nella nota campana esattoriale i terrieri convenivano sulla piazza e incominciava la scelta dei bambini tolti più belli o i meno brutti restavano coloro i quali insieme con le altre sventure toccava pure l'umiliazione di essere rifiutati chi ha appena un po' di cuore pensi quali sentimenti in quel punto dovevano germinare negli animi di quei disgraziati fanciulli allora la gente dell'ospizio che doveva ritornarsene col carro vuoto andava sollecitando o l'uno o l'altro dei contadini presenti a prendersi o questo o quel bambino o quantunque storpio o deforme che l'ospizio provvedeva per essi al pagamento di un ragguardevole ricompensa dell'allevatore e così a stento e a fatica tutti i bambini venivano accolti nelle case dei contadini e quindi dopo un secondo rifiuto si affacciavano alla vita di famiglia paurosi sapendo di essersi appena 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 ma appena tollerati altro che notare nelle statistiche penali che il numero maggiore di delinquenti è fornito dagli esposti non è colpa loro se questi bambini crescono male e l'illustre dottor, professore Edoardo Porro nel suo lavoro che riguardava il biennio 1869-70 alla maternità di Milano a pagina 266 parla della sorte che attende gli infelici che hanno culla nell'ospizio i quali sovente hanno per sopraggiunta la sventura di perdere nascendo la propria madre la quale nell'istante di dare la luce sul bambino è tormentata da gravi dolori non solo fisici ma anche morali pensando, come dice il Porro che la sua creatura si trova isolata e reietta nella società dannata a un betrotrofio e a un allevamento poco dissimile da quello dei bruti che a pratica della maternità in specie in quella di Milano non troverà esagerate queste parole oggi le condizioni dei ricoverati di questo istituto dovrebbero essere un cont al poco ma meno mutate grazie alla benefica influenza delle persone che essi lo dirigono un forte sentimento di pietà si ridesta in ogni animo ben nato alla vista di un povero gettatello e il giusti descrivendo scherzosamente un suo viaggio a Montecatini osservando uno di questi sventurati bambini sente dentro il suo cuore vibrare un tratto la corda del dolore però esce in un volo lirico degno di essere riletto e così scrisse accanto a me dal lato delle Brenne una povera donna montanina lieta recava il petto un trovatello preso là nel bulione dove si insacca dal matrimonio dallo stupro a gara o legittimo o no l'umana carne o benedetta miseri innocenti la pubblica pietà che vi ricopra nudi piangenti abbandonati a voi il casto grembo della cara madre e del tetto paterno il santo asilo che da l'essere intero e dolcemente l'animo leva a dignità di vita error vergogna delitto e miseria chiuse per sempre crescerete soli soli all'affetto e mal sicuro in terra al disonore dei genitori ignoti come la pianta che non ha radice mal e dicendo ma poveretti questo era meglio per essi era meglio per essi di non nascere www.redigio.it e la storia continua e la storia